I magneti della risonanza scalderanno il metallo, che supererà i 150 gradi in 15 secondi. Per questo stiamo iniettando acqua gelata nella capita addominale. Prima sentirà un freddo terribile e poi un forte calore. Insomma, proverà un caldo che non ho mai provato. Faremo il più velocemente possibile. Sta zitto. È interessante. No, non lo è. È banale e semplice. Non si può negare che sia un gran bell'esemplare, perciò da un punto di vista evolutivo produrrà una prole sana e la mia corteccia prefrontale mi dice che dovrei fare sesso con lui. Ah, tutto qui? Sì. La parte razionale del mio cervello sa che è rozzo idiota. Ma la parte irrazionale del tuo cervello prende il sopravvento, il che è interessante. Grazie a tutti.